Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ragazzi la squadra di Shevchenko Facci vedere bene La squadra di Shevchenko Le wildcard sono Fedorchuk, Fedeschi Voronin Questi sono tutti i giocatori proprio che hanno giocato pure gli europei Voronin è Voronin quello vero? Andri Voronin Ragazzi Andri Voronin Ed ha 44 anni, è lui Eccolo Porco dio Voi ha giocato nel Liverpool E che ha vinto vai sopra Voronin ha vinto No non ci cliccare, ci sono un po' su che ti esce Questo lo conosco io Coppa della divisione sud ovest di Hunger Games Capo Calloniere Ah Giocatore dell'anno Eh questo lo conosco io già Ma per farti capire la situazione Ma può portare questi giocatori? Sì ma c'è pure Sörna C'è No, che cazzo dici? Eh sì, sì l'ho letto prima Eh frate ma si è fatto l'ultimo Stai Siamo Ciao boys Ciao raga Come va? Ciao Tutto a posto? Tutto a posto Mi sento quasi povero che non sia lei Sì Dai La finale della fase di ritorno Oh Berlì Berlì che stai a fa' Guardalo Guarda dietro Questi sono i scontrini che ho fatto da quando ho iniziato a lavorare Questi Guardalo E arriva a giocarsi La finale della fase di ritorno Noto quando magari le persone non gli arriva quello che fai Ma mio mio è una bomba non è solo per le femmine Fra pure io No sì però tipo che ne so quella con Mario e Brescia È poco forte quella cazzone No sì sì per te Io so d'accordissimo il problema è che tipo io Visto il lavoro da tanto vedo quando le persone magari gli arriva meno il lavoro proprio che hai fatto Rispetto a magari l'immagine che poi passa quando diventa magari vero e virale Vabbè ma quello sì io da sempre so Ma no Ma ma che è una busta anzi Let's gooo Ski Ski Truimi in nego Rox grazie a l'età benvenuto Ok adesso io passo il mio OBS da questa parte E poi ve lo succhio No non penso Sì scappate attenti che sto arrivando eh Ah 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 Il ragazzino che puzza di smegma di smegma Smegma man No C'è stata un'implosione ragazzi Eh perché non hanno raggiunto la zona di sicurezza Ragazzi ragazzi perché uno mi è venuto addosso l'ho fatto volare Allo ho fatto mano dell'osservo Curiosa No bruza Penso sia stata la mia stessa reaction John Kao Megalul Naruto Pazzesco Incredibile Perfetta Veramente perfetta Allora torniamo ai nostri calciatori Giovanni Valtunini quindi abbiamo capito che ragazzi Sarà quello che ci svolterà la partita Ma Non me la posso rischiare col buco nero Tiro piano Bucco nero Per le persone Abbiamo Sto dando questa borsa di studio Random con Random È una roba che stiamo facendo insieme a Infojobs Che è letteralmente tipo il primo sito per trovare lavoro e per borse di studio al mondo Che poi è anche il main sponsor della Kings League di Piqué E niente se vi va con punto esclamativo Infojobs potete iscrivervi all'offerta È letteralmente una borsa di studio che se chi vince chi viene deciso che la vince tramite neanche estrazione Simone te lo metto nel culo Mettilo a me Che aumenta il colesterolo Karen Hai detto veramente al maestro mettila a me Ho sbagliato E allora dove è andato? È andato nel Fossano Per poi continuare la sua carriera nel Fossano E ritrovarsi Ma il maestro invece? Come sta il maestro? Tutto bene? Tutto a posto? Ho tre persona più riservata su quella che è la mia vita Per me essere fidanzato con una streamer equivale a riformare il fascismo praticamente Cioè il livello di gravità è lo stesso per quanto mi ricordo No dai io ti voglio bene Mario Io ti voglio bene Marza mi vuoi salutare? Mannaia al signore Allora cucina? Ti pare che arriva dall'altra parte? Let's go, let's go E' letteralmente l'unico modo per farcela No 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 Mi sei sento lo stesso Evita di parlà Genio Aspetta fatemi vedere un attimo Vada vada Questo è un coglione Coglione Mi serve una manina sull'audio Fatemi capire Levo lo schermo a volo Levo lo schermo a volo Ho levato lo schermo Ho levato lo schermo Ma perchè non si leva lo schermo? Ma perchè non si leva lo schermo? Vuoi vedere qual è? Che lo puoi vedere anche senza volume Perchè tanto Boom baby bye Boom baby bye Boom baby bye Siiii